They got a new thing called Free Shavakadu Free Shavakadu Ma cazzo Ma pensa ad andare nell'ospedale psichiatrico la mappa di prima con l'infermiera E' la sua mappa quella E' la fine Credo sia una cosa più creepy che esiste E' la fine Secondo me dobbiamo mettere Infermiera uscita direttamente da Chernobyl Non fatti molto Non fatti molto Non so se è più creepy la strega o la infermiera Clinica curativa No 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 Non c'è sapere di stare zitto Non dovete morire tutti Raga No toglietevi No no raga toglietevi Raga toglietevi Raga E' farti vedi Raga oh mio dio 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 Ma dove siete? A Pinnacoli secondo te Aiuto 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 a Pinnacoli Dov'è? Ce ne sono due Madonna con 6 HP Madonna con 6 HP Madonna con 6 HP Ma questo qua è laggato Mi è scomparso davanti Questa clip me la salvo No Non ci voglio credere Era qua Mmm Vabbè Yeah I server saranno offline per la pace 5.20 a partire dalle 9.00 chat Certo 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 Beh secondo me sta per cestini e terminator Vai ciao Mi da in culo Prima mi stavano andando tutti bene Ma non mi vanno più i bianchi Io mi sto curando Perciano solo di neri Non ho cazzate io Oh la uso la cazzate Secondo me per aprire la botola se la trovi Caccia C'è raga Raga io non lo so C'è raga io non lo so C'è raga io non lo so Ma questo qua è scemo Ma questo qua è scemo Questo qua si mette dietro gli angoli a camperare Ma si può Guarda lì che camperà Cora Con te a casa Alessio e gli altri Luca Vanno sempre in cima Madonna mia che spavento Mi sono preso E vabbè mi sei pure in patto controller E raga non ho scherzo Ma sta qua Mi ha fatto prendere uno spavento bello grosso Mi stanno sparando E Luca è morto Shalalalalala E dopo pure Dai ma non muore E quello che mi ha ucciso E quello che mi ha ucciso sto Ragnarok Ma Giorgino non muore Ma perché fa vedere Ragnarok Perché ti ha ucciso lui forse No non mi ha ucciso Giorgino E poi non c'era Giorgino Si c'era Giorgino Stai sparando da Biping Stai sparando da Biping Stai sparando da Biping C'era Giorgino Salva la Cripp Salva la Cripp Salva la Cripp Lui non è Giorgino Va bene Ok Ok Il passato è serio Guarda che non stima Il passato è serio Guarda che non stima Ma se io ora si vado addosso così Ma è tornato Ma che Ma cosa ho visto No ma te devi vedere prima cosa è successo Che è successo Questo guarda 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 Vieni vieni L'ho pure mancato Uh colpi buoni Aia Sono matto Perché Ah E come è possibile sta cosa però Aspetta che c'era un medic Mi potrebbe servire Ma quale è questa cosa qua scusa che cosa intendi Sti carrelli sono i carrelli della vita Sono sopravvivendo Peggio possibile Ha le peggio torture Aspetta che mi lascio giù Weee Bello quel lama Ma se spacchiamo l'albero E scompare il lama secondo me E cos'è che Com'è che fa la canzone Tata 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 Josbrev Vieni 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 Ma cosa sta succedendo in questa partita Robbe Ho capito perché Perché Sentivano sto messaggio Perché io devo fare la richiesta d'amicizia a Leo Cosa Ma porco Che problemi c'hai? Ma questo è che posto di problemi c'hai? Ma sarò sta qui Ma sarò sta qui Occa adesso vuoi entrare Com'è che si chiama? Wobbo Sì Proprio lui Il nome Che fastidio Oddio mio Oddio Josbrev Io sto andando Adesso Un gruppo di nemici Mi vedo la giraffa Andargli addosso A casissimo È stato bellissimo Dopo proviamo a fare Nei cervello oceanici Che mi sa che Non ce la vedo mai Non siamo coordinati Vabbè da me si vede Da te Un giro veramente incredibile Vado io Luca ti venga addosso Nooo Nooo Scusa josbrev che mi hanno spinto io dopo sono andato addosso al tipo che mi ha spinto a solo dovevi dovevi raga io sto registrando tutto eh tu non hai un canale youtube è importante perché esce Ezio e Asso dell'aviazione se non ha scelto nessun operatore ah eccola ehi fu nascondeo il berichino ho 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 credo che adesso credo che adesso che palle 0-3 seriamente cosa aspettiamo il pig d'apo con una scuta di vita che scemo ero ovvio che doveva sparare mi doveva coltellare lo scemo infatti a coltellare dovevo sparare senza miare però non lo ha sempre a coltellare lo scemo a coltellare lo scemo a coltellare lo scemo a coltellare lo scemo che provano ecco 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 Grazie a tutti.